BELLA A TUTTI RAGAZI 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 Suso, Suso, raga non lo fermano Suso può entrare in aria Suso col mancino Ragazzi finisce qui Il match Dai onora al mio avversario perché sicuramente ha giocato meglio di me Magari aveva una squadra leggermente migliore Ma neanche più di tanto Un modulo che dà fastidio ragazzi Quel modulo mi dà un sacco fastidio E niente finisce qui Il match Quindi vi faccio vedere la rosa ragazzi Dato che abbiamo persa una Scaliamo dai possibili Cambi Un punto cioè un cambio Più il rage quit però ne abbiamo Comunque due quindi andremo a sostituire Due giocatori nel prossimo episodio Mi raccomando sempre Nei commenti scrivetemi chi volete Che vado ad upgrade E niente lasciate tanti Mi piace iscrizione al canale e noi ci vediamo In un prossimo video ciao ragazzi Ciao 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 Ciao